Cari amici e cari amici, buon giorno di Gerusalemme, Yom Yerushalayim Sameach. Dal profondo della distruzione, di fronte all'immane devastazione lasciata dall'impero romano a Gerusalemme, il grande Tanaita, il rabbino Akiva ben Yosef, ai suoi compagni piangenti che osservavano dal monte Scopus le rovine del santuario sul monte del Tempio, voleva citare la profezia della consolazione di Zaccaria. Si vedranno ancora vecchi e vecchie seduti lungo le vie di Gerusalemme e persone appoggiate al bastone per l'età avanzata e le strade della città si riempiranno ancora di fanciulli e fanciulle che giocheranno nelle sue vie. Lo disse con un grande sorriso in volto. In quei momenti non vi fu più grande visionario di lui. Oggi sappiamo che quel visionario fu un profeta. Chiunque sia stato oggi a Gerusalemme sa che la profezia di Zaccaria si è avverata. Rabbi Akiva credeva nella sua realizzazione. Sebbene Gerusalemme fosse allora in rovina e l'impero romano al suo culmine, sapeva infatti che finché il popolo di Israele è vivo, il suo cuore non può essere estirpato. Ovunque si trovassero gli ebrei, volgevano i loro cuori in preghiera verso Gerusalemme. La ricordavano ogni giorno, digiunnavano in sua memoria e in ogni occasione ripetevano il giuramento degli esuli babilonesi. Se ti dimenticò Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, si attacchi la mia lingua al mio palato, se non ti ricorderò, se non porrò Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Circa 1800 anni dopo, il 7 giugno 1967, il 28 di Iyar del 5727, secondo il calendario ebraico, i soldati dell'esercito di Israele, discendenti di quelli stessi Tanaiti, discendenti degli esuli di Babilonia, di Roma e di Spagna, aprirono una breccia alle porte di Gerusalemme ed entrarono nella città vecchia restituendola ai legittimi proprietari. Perciò rise il padre, dice Alterman nella sua poesia a Yelet. Perciò rise rabbia Chiva, perché nella storia dei popoli del mondo non c'è una storia simile a questa e ogni tentativo di spiegarla con gli strumenti della logica, volta dopo volta, finisce per infrangersi. Quel sorriso rimasse un enigma. Quel sorriso è stato il segreto della nostra forza nelle varie diaspore, anche nelle situazioni più difficili. Qualsiasi ebreo non aveva alcun dubbio su a chi appartenesse Gerusalemme. È vero, Gerusalemme ha luoghi sacri per le tre religioni e solo lo Stato di Israele li ha preservati e tutela la libertà di culto per tutti. Ma come città madre, essa è consacrata al popolo ebraico. Noi abbiamo fatto di Gerusalemme ciò che oggi, già circa 3.000 anni fa, la città di Davide, il centro religioso, culturale, politico e spirituale del Regno di Israele. Qui i profetti di Israele hanno annunciato giustizia e redenzione al mondo intero. Solo in virtù di Gerusalemme il sionismo nelle ultime generazioni è potuto riuscire a motivare l'enorme rivoluzione che abbiamo vissuto. Sion ha sempre chiesto la pace dei suoi prigionieri che le hanno osservato fedeltà. Non esiste sionismo senza Sion. Le difficoltà storiche e politiche non sono motivo di disperazione, mai sia. Richiedono invece pazienza e fede. Due anni fa siamo riusciti a ottenere il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte degli Stati Uniti che hanno anche compiuto un atto concreto spostando la loro ambasciata nella nostra capitale. Il mio sogno per cui prego è che nell'arco del mio mandato di ambasciatore in Italia possiamo riuscire a vedere il trasferimento anche dell'ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme. Sarebbe una commovente e storica chiusura di un cerchio rimasto aperto per duemila anni. Il profeta Isaia, un uomo di Gerusalemme nell'ottavo secolo prima dell'era volgare, ci indica che cosa dobbiamo fare tutti noi. Buon giorno di Gerusalemme!